Quando il GP Deco organizza qualcosa, è qualcosa di eccezionale. Quindi è un'occasione unica per Milano. Mi aspetto un grande risultato. Mi aspetto un bello spettacolo. Ho veramente grande attesa. È una sorpresa. Mi aspetto un bello spettacolo. Mi aspetto un bello spettacolo. Mi aspetto un bello spettacolo. Per la prima volta qualcosa di un po' diverso, anche di conciliante, insomma è un momento un po' che unisce volendo. È molto impressionante. Non me l'aspettavo. C'era una resa scenica meravigliosa. Il Duomo è un'altra cosa vista in questa maniera. È veramente molto bello. Really interesting. Sono felice e vedo che c'è stata anche una grande presenza e che vuol dire che la città anche in momenti come questi riconosce la bellezza e la grande gratitudine che dobbiamo avere tutti nei confronti di chi inventa cose così belle per rendere ancora più attraente la nostra e la nostra vita di Milano. Grazie. 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 Grazie.